È arrivato il momento di salutare il Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili, Elbano Denuccio. Grazie, grazie. Lascio qui la cartellina, se no faccio un po' Pippo Baudo nel caso. Farò anch'io come sindaco il giro del palco, visto che abbiamo fatto questo palco al centro. Buon pomeriggio a tutti, veramente grazie. Un caro saluto ovviamente a tutte le illustre autorità, alle autorità civili e militari presenti in sala, a tutti i tantissimi colleghi, il colpo d'occhio è particolarissimo. Poi ho visto che tutti si sono rivolti da questo lato, quindi non vi dispiacerete se mi rivolgo anche ai giovani che sono da questo lato. E quindi un caro saluto ai giovani colleghi che ho già incontrato prima brevemente, ma adesso avremo modo nella prima tavola rotonda di confrontarci. Due parole molto veloci perché vorrei subito entrare poi nel caldo, nel vivo di questo evento. Tra l'altro la prima tavola rotonda sarà, come si è già capito, una tavola interattiva in cui avremo modo di confrontarci con i colleghi, ma avremo anche modo di prendere consapevolezza di quello che eravamo due anni fa, di quello che siamo oggi, di quello che saremo nel prossimo futuro. Il titolo, partiamo dal titolo Commercialisti Next, ovviamente è un titolo che non lascia spazio a dubbi interpretativi. Qualcuno dice che il Presidente nazionale dei commercialisti è anglofono, però il concetto di Next, di prossimo, di futuro, mi sembrava il titolo più giusto per aprire un evento, un convegno nazionale, in cui ovviamente lo scenario non è rivolto solo ai giovani, ma anche ai meno giovani. Parleremo quindi di futuro, ma ne parleremo con grande consapevolezza, con spirito anche di analisi tecnica. Infatti abbiamo somministrato una survey, grazie al collega che non vedo qui, Tommaso Di Nardo, della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, quindi ne parleremo analizzando dei numeri che sono stati elaborati dalla nostra fondazione, sono stati somministrati ai nostri giovani colleghi under 40, numeri che ci danno uno spaccato chiaro di come i colleghi abbiano colto con chiarezza qual è la visione messa in campo da questo Consiglio nazionale, soprattutto hanno colto quelle che sono le linee evolutive che sono in atto in questo momento, il cambiamento culturale che abbiamo avviato due anni fa con passione, con determinazione e per l'appunto con visione. La stessa passione, determinazione e visione che vorrei sia riconosciuta con un grosso applauso al Presidente e all'Ordine di Pesaro per l'organizzazione di questo splendido evento, ma io estendo il gioco di squadra, guardo Silvia che è stata prima evocata da Marco Lucchetti, che ringrazio anche perché nella nostra chat interna con l'Ordine delle Marche era un po' la promoter dell'azione di animazione di territorio, ma vorrei anche ringraziare tutti i Presidenti, vedo qui schierati, dell'Ordine delle Marche, avete fatto un eccellente gioco di squadra, perché poi non dimentichiamoci che siamo ad ottobre con la scadenza del 31 alle porte, non apro temi perché potrebbero essere un po' spinosi come quello del concordato preventivo biennale e quindi il risultato ottenuto di un palazzetto, o meglio di un auditore, un così gremito, è importante. Questo gioco di squadra è il gioco che il Consiglio nazionale in questi due anni ha portato avanti e sta cercando di portare avanti. Come diceva prima la dottoressa Capponi, abbiamo portato avanti anche un'interazione forte, costante. Io mi permetto di dire anche riconosciuta e referenziata con le forze politiche di questo Paese, di maggioranza, di opposizione, e lo vedremo nella prima tavola rotonda e anche col Governo, ma soprattutto stiamo portando avanti in queste settimane insieme ai consiglieri nazionali un passaggio che io considero necessario, cioè quello dell'approvazione in Consiglio per poi portarlo ovviamente al Parlamento italiano della nostra Carta Costituzionale, il Decreto Legislativo 139 del 2005, il cui obiettivo, come cercheremo di spiegarvi in questa prima tavola rotonda, è quello di recepire proprio le esigenze dal basso, cioè cercare di inserire all'interno di questo documento, ormai ampiamente datato, oltre 20 anni fa, quelle che sono le esigenze per poter ancora di più affermare il nostro ruolo e la nostra funzione a livello sociale e a livello istituzionale. Io penso che queste siano le risposte più chiare, lasciatemi dire, anche più eleganti, rispetto a chi irresponsabilmente cerca sempre ostinatamente di sollevare polveroni nella nostra categoria, sottraendosi anche ad un confronto democratico a beneficio degli oltre 120.000 colleghi. Questo penso sia il momento più importante anche per un cambiamento culturale interno nostro, della nostra professione, un cambiamento culturale che deve essere guidato attraverso l'abbandono della politica della lamentazione, del dire sempre le cose che non vanno. Sappiamo che non va tutto bene, non dobbiamo mettere la testa come gli struzzi sotto la sabbia, ma dobbiamo anche cercare di essere, come abbiamo cercato di fare noi in questi due anni, estremamente propositivi, farci noi protagonisti del nostro cambiamento, non aspettare che altri facciano qualcosa per noi. E questa è la linea che io vorrei emergesse poi da quello che diremo nella nostra prima tavola rotonda. Noi a Torino abbiamo l'anno scorso aperto, spalancato le porte ai giovani, lo ricordava prima la dottoressa Capponi, e quest'anno abbiamo rieplicato questa iniziativa con un passaggio evolutivo che mi piace sottolineare, qualcuno me l'ha detto anche stamattina, non parliamo di giovani, ma parliamo con i giovani. È la prima volta che un Consiglio nazionale si pone in una posizione di interazione diretta con chi poi rappresenta non il futuro, ma il presente, perché qui abbiamo giovani colleghi, quindi sono nostri iscritti, sono già nostri colleghi a tutti gli effetti, ed è importante cogliere da loro quali sono gli aspetti di criticità, ma anche gli aspetti positivi, mi auguro, che potranno emergere da questa nostra chiacchierata, per applicare quel principio che ha un po' caratterizzato il nostro lavoro di dialogo, di ascolto e di concretezza. Qualcuno sta sorridendo in sala perché si ricordava lo slogan della campagna elettorale di questo Consiglio nazionale. Parleremo anche in un'altra tavola rotonda, avremo modo di affrontare temi come l'intelligenza artificiale, ne abbiamo sentito parlare più volte, specializzazioni, vedremo quanto sia importante quel connubio che abbiamo costruito e consolidato con l'Università, con l'Accademia in generale, in un momento storico in cui, a causa di una metamorfosi del mercato professionale, avere competenze tecniche diventa un fattore critico di sopravvivenza, soprattutto per noi professionisti, e quindi il connubio con l'Università diventa fondamentale per trasferire queste competenze. Come avremo modo di vedere, le specializzazioni non devono essere un elemento di discriminazione, tutt'altro, devono essere invece un fattore di grande valorizzazione della nostra capacità professionale, devono essere quell'elemento che ci porta a porre una barriera all'entrata, all'abusivismo, perché chi è specializzato non è replicabile, è un unicum, deve essere l'elemento che ci porta ad essere tranquilli in esercizio della nostra professione, e deve essere nel contempo l'elemento che ci consente di essere ampiamente riconoscibili nel mercato da chi ha bisogno dei nostri servizi, che deve naturalmente rivolgersi ai commercialisti e non ad altri. Parleremo poi, nell'ultima tavola rotonda, anzi non è la penultima tavola rotonda, dell'economia della cultura. Lo diceva prima l'amico e collega Marco Lucchetti, siamo a Pesaro, la capitale della cultura. Signor Sindaco, la prima volta che vengo a Pesaro è splendida questa città, io lo dico, veramente splendida. Anzi, i colleghi marchigiani sanno perfettamente che io sono un estimatore delle marche, infatti vengo molto spesso, sia in abiti civili che sotto copertura, perché mi piacciono molto le marche, lo dicevo prima, ne parlavo. Pesaro in particolar modo è una città veramente bella, ieri abbiamo fatto una passeggiata, siamo stati di fronte alla biosfera, è stata anche impattante vedere il logo del Consiglio Nazionale, lo definisco il simbolo di Batman, dove sta il Consiglio Nazionale c'è il nostro logo, è una forma anche di identità, di riconoscimento. E quindi non potevamo non parlare di economia della cultura a Pesaro, quindi tra l'altro l'economia della cultura non solo è un booster di crescita economica, io me ne sono occupato per ragioni accademiche tanti anni fa, studiando distretti culturali e distretti culturali evoluti in particolar modo, e ho dimostrato che mettendo a fattor comune in un sistema integrato il patrimonio culturale, il patrimonio naturalistico, le risorse ovviamente turistiche del territorio, c'è una crescita economica del sistema locale più che proporzionale. E bisogna quindi che noi, tutti, dicevamo prima, prendiamo consapevolezza di questo patrimonio che ci circonda, gratuito, perché voglio dire, in Italia, gli inglesi dicono un open air museum, c'è un museo a cielo aperto, che molte volte viene visto solo in un'ottica di conservazione, ma non di sfruttamento in senso positivo. Questo spetta molto alle amministrazioni, far crescere questa integrazione, che porta benefici a tutto il tessuto economico, ripeto, nazionale e internazionale. E da ultimo, domani una tavola rotonda sui generis, vi lascio il beneficio del dubbio, che ci fanno un campione del mondo di calcio, un personaggio dello spettacolo, due imprenditori di successo, e il Presidente del Consiglio nazionale sul palco. Lo vedrete solo vivendo, cioè domani nell'ultima tappa. Quindi non mi dilungo oltre, ringrazio tutti quanti voi e grazie veramente per la vostra partecipazione. Però chiederei un attimo un fuori programma, chiederei un fuori programma, anzi vi chiederei anche di accoglierlo con un fortissimo applauso. Vorrei che venisse qui sul palco per un breve indirizzo di saluti, accolto con un grandissimo e fragoroso applauso, il nostro nuovo Presidente della Cassa Dottori Commercialisti, l'amico e collega Ferdinando Boccia. Vieni Ferdinando, vieni, 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 vieni. E' un collega che conosco da qualche giorno, devo dire che è stata una piacevole conoscenza, Presidente, a lei il microfono, prego. Grazie Albano, grazie per l'invito, è un invito importante per me perché è il mio primo intervento, diciamo, davanti ai colleghi, ai rappresentanti dei colleghi di tutta Italia, per cui ti ringrazio per questo invito, per questa sorpresa che mi hai fatto. un po' ti odio perché mi devo... Però va bene, va bene così, è un grande onore per me. E' un evento, diciamo, particolare, particolarmente importante, è un luogo particolarmente importante, è la capitale della cultura, per cui noi che facciamo questo lavoro sappiamo quanto è importante, quanto dovrebbe essere importante occuparci di cultura, potrebbe essere il nostro futuro lavorativo per anni, se è vero che ha un valore aggiunto di cento, mi dicono, di cento miliardi e oltre un milione e mezzo di addetti che gravitano nel mondo della cultura. Quindi io mi rivolgo soprattutto ai giovani, ovviamente molti di loro sono miei amici, molti li conosco, e quindi dico a loro impegnatevi su questo territorio e questo campo, perché è davvero molto, molto importante. Per quanto ci riguarda, voi avete scelto due parole importantissime, NEX e nuovi scenari, che sono il pane quotidiano di Cassa Dottori Commercialisti. NEX, perché inevitabilmente ci occupiamo del futuro di tutti quanti noi. Ma NEX vuol dire anche accanto a, vuol dire anche stare accanto ai colleghi a Cassa Dottori Commercialisti e da sempre accanto ai dottori commercialisti, dove sono state le governance che mi hanno preceduto, in particolare quella di Stefano Distilli, che approfitto a salutare. Applauso anche all'amico e collega Stefano Distilli, voglio dire, è giusto ricordarlo, non perché mi verrebbe una battuta, è passato a miglior vita, nel senso che adesso vive più serenamente, non è di partito, è passato. No, assolutamente, l'ho sentito qualche minuto fa e ovviamente mi ha fatto, diciamoli in bocca al lupo. E qua ho veramente sentito ringraziamento a lui per l'opera che ha fatto in questi anni, perché mi ha consentito di formarmi e di affrontare oggi questa situazione, insieme a tutta la mia governance e alla struttura della Cassa. Un saluto alla squadra della Cassa di Previdenza, anche il Vice Presidente Dottola, che sta lì, un caro saluto, al segretario Graziani, a tutti i componenti della squadra. Ragazzi, abbiamo il nostro futuro nelle vostre mani, non so se mi spiego. Ragazzi è una parola grossa, perché visto in contrasto con i giovani, insomma, noi ragazzi non lo siamo più, però diciamo che è un'incitazione, siamo giovani dentro. Ricordatevelo sempre, l'età è solo un aspetto anagrafico, è la natura quella che conta. Prego, Presidente. Niente, non voglio togliere altro tempo agli ospiti che seguiranno. Voglio chiudere solamente con una battuta, facciamoci davvero due risate. Voi eravete abituati con Stefano Distilli alle citazioni dotte, l'ultima di Nietzsche. Spettacolare, quella di Nietzsche me la sono incorniciata. Io molto più modestamente vorrei citare lo zio di Spider-Man. Da grandi poteri derivano grandi responsabilità. E quindi, avendo la responsabilità delle pensioni e del futuro di oltre 73 mila colleghi, che io vi auguro un buon lavoro. So di essere in ottime mani, Ferdinando. Grazie, grazie ancora. Grazie, allora salutiamo Ferdinando Boccia, Presidente della Casa di Previdenza, dei dottori commercialisti. Allora, Presidente, lei può riprendere la sua cartellina, accomodarsi su questa polstrona, perché siamo pronti per iniziare la prima sessione, i numeri della professione tra resilienza e nuovi scenari. E vorrei allora invitare qui con noi a sedersi Tommaso Di Nardo, coordinatore dell'area economica statistica della Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti. Eccoci qua. Grazie, eccoci. Allora. Il nostro pagnoncelli sarebbe giusto. E allora, iniziamo proprio questa prima sessione, insomma un po' l'abbiamo anticipata, partendo da un sondaggio, l'abbiamo anticipato in apertura, ne ha parlato anche il Presidente Denuccio, il sondaggio è stato svolto su un campione di circa 2.000 giovani commercialisti, quindi è un campione significativo perché rappresenta circa il 10% della categoria, e insomma questo sondaggio cerca, come è stato già detto, di delineare quello che è un po' lo scenario attuale della professione, ma anche può dare una visione in prospettiva, di una visione strategica per il futuro della professione. Quindi, diciamo, è un ulteriore anche questo, passo in avanti. Quindi prego, passo subito la parola a Tommaso Di Nardo che ci illustrerà quelli che sono i dati e gli aspetti più rilevanti che sono emersi da questo studio, da questo sondaggio. Sì, grazie. Allora, nel frattempo che la regia manda le slide, io dico subito una cosa, cioè che abbiamo condotto questo sondaggio, però prima di mostrarvi i dati del sondaggio, vorrei soffermarmi brevemente sul titolo di questa sessione, cioè su una parola in particolare che si trova nel titolo di questa sessione, cioè la parola resilienza. È ormai diventato un termine di uso comune, molto diffuso, soprattutto dopo la pandemia, tanto è vero che è stato anche utilizzato nel piano nazionale che il nostro Paese ha realizzato in seguito al Next Generation EU, il piano nazionale di ripresa e resilienza. E quindi voglio soffermarmi un attimo su questo concetto prima di passare ai nuovi scenari che sono stati evocati prima e che noi abbiamo letto attraverso appunto il sondaggio, la survey, di cui dicevamo prima. Vorrei partire subito, andrò molto veloce naturalmente nell'esporre i dati, così da dare il tempo poi dopo a tutti per fare analisi e commenti. Partiamo da un dato, due dati sono molto importanti per capire il contesto nel quale ci troviamo. Questo è il primo e lo estrapoliamo da un macro trend che riguarda il mercato del lavoro italiano, e cioè il dato è più dipendenti, meno indipendenti. Se noi confrontiamo le tendenze che ci sono dal 2019 ad oggi, vediamo praticamente che il numero degli occupati dipendenti è in forte crescita e il numero degli occupati indipendenti è invece in grande decrescita. All'interno di questa componente poi la parte relativa ai liberi professionisti è ancora di più in calo. Questo è molto importante perché noi in genere tendiamo a leggere i nostri dati sulla professione di commercialista. Come sapete, sono molti anni che noi, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, pubblichiamo, elaboriamo e pubblichiamo i dati in un rapporto annuale sull'albo e mostriamo ormai dal 2008, cioè dal momento dell'albo unico, il trend. E noi in genere ci soffermiamo su quei numeri e vediamo che negli ultimi anni stiamo crescendo di meno. Però io credo che sia importante allargare un attimo la visione per capire cosa sta succedendo in generale e dentro quale trend noi siamo collocati. Perché questo mi serve proprio per soffermarmi sul concetto di resilienza che si trova in questa slide. Ora, se noi confrontiamo le professioni a noi più vicine, cioè quella degli avvocati, dei notai, dei consulenti del lavoro, le professioni economico-giuridiche con appunto quella di commercialista, vediamo che sempre dal 2019 ad oggi, nello stesso periodo, i commercialisti crescono dell'1,4% e gli altri sono tutti in calo. Addirittura, se noi prendiamo il dato delle casse, quindi non prendiamo gli iscritti all'albo, ma quelli alle casse, l'aumento è ancora più alto, è dell'1,9%. Se poi addirittura prendiamo il dato della cassa dottori per la situazione particolare del nostro albo, nello stesso periodo addirittura la crescita è più 5,2%. Sono dati che non hanno bisogno di commento, parlano molto chiaro. Questa evidentemente è una professione ancora in crescita. E allora, giustamente, qualcuno mi chiederà, beh, è il calo dei praticanti, come ce lo spieghi? Beh, per un po' di tempo noi abbiamo parlato di fattore demografico, cioè abbiamo detto che c'è una tendenza al declino demografico. Però, se noi vediamo questi dati, dobbiamo un attimo ricrederci, perché in effetti questi dati sono molto eloquenti, cioè il numero di laureati negli ultimi dieci anni è aumentato del 22%. Addirittura, nel gruppo economico, l'aumento è del 32%. A fronte di questo abbiamo un crollo degli abilitati molto alto e un calo dei praticanti. È evidente, dunque, che è nato un fenomeno che si ricolloca in quel macro trend che abbiamo visto all'inizio di forte riduzione della propensione verso la libera professione. C'è un problema strutturale molto grande che dobbiamo tenere ben presente. E quindi sentiamo parlare di proletarizzazione delle professioni. Questa espressione un po' antipatica, molto brutta, sta diventando anch'essa di uso molto corrente. Se vedete, il reddito medio dei professionisti non ordinistici, cioè quelli iscritti alla gestione separata INPS non arriva a 17.000 euro, reddito medio annuo, dato INPS. Mentre invece, come vedete, i commercialisti hanno la media reddituale più elevata tra le professioni economico-giuridiche. E tra l'altro questa è una media di tutti, quindi tutte e due le casse, dottori e ragionieri. E anche questo è un dato molto eloquente rispetto al tema della resilienza. Chiudo questa prima parte per poi passare dalla del sondaggio mostrandovi un ultimo dato che secondo me è molto importante, e cioè il mercato della professione, il mercato più che altro dei servizi di consulenza, contabilità, anche dei servizi legali e in generale della consulenza aziendale è in espansione, ormai ininterrottamente dal 2007 fino al 2001, cioè una crescita della quota di questo mercato sull'economia generale. E all'interno di questo mercato la componente attribuibile ai commercialisti anche essa è in aumento. Per tutta una serie di motivi, alcuni sono stati anche elencati prima, che fanno riferimento alla crescente domanda di servizi professionali da parte delle imprese che aumenta incessantemente di anno in anno. Questo è il contesto nel quale noi ci andiamo a collocare e quindi a partire da qui abbiamo condotto il sondaggio Next, il futuro della professione visto dai giovani commercialisti. Il campione che abbiamo coinvolto è quasi di 2.000 risposte su una platea di quasi 18.000 iscritti all'albo, under 41 per la verità, cioè fino a 40 anni e quindi siamo ben oltre il 10% di rapporto tra campione e universo per cui sono dati molto solidi dal punto di vista statistico. Allora, la prima domanda che abbiamo posto è come valuti lo stato attuale della professione? Beh, in questo caso come vedete oltre il 60% ha risposto che la professione non è in crisi ma nel senso che ovviamente ci sono una serie di difficoltà, una serie di problematiche da affrontare. Mentre invece solo il 32% ha indicato l'opzione che la professione è in profonda crisi. Apro un attimo una parentesi. Questi sono dati che noi stiamo dando in anteprima perché il sondaggio è stato svolto dal 20 settembre al 10 ottobre più o meno e ovviamente abbiamo elaborato i dati velocemente per presentarli oggi poi ci sarà un'analisi più approfondita nei prossimi giorni. Seconda domanda, qual è secondo te l'aspetto più critico per il futuro della professione? Bene, il 45% ha risposto alla complessità normativa e soltanto il 26% all'abusivismo all'interno della professione. Evidentemente sono queste le due criticità maggiori mentre è chiaro che i giovani non sono assolutamente spaventati dalla tecnologia come probabilmente ci saremmo aspettati e così appunto è mentre la concorrenza interna non è un problema particolarmente sentito e anche questo mi sembra un dato molto importante. Terza domanda, cosa ti ha indotto a intraprendere la professione di commercialista? Beh, qui c'è un po' di sorpresa perché non ci aspettavamo questo dato cioè il 21% di chi ha indicato di avere uno studio professionale in famiglia quindi solo uno su cinque sceglie la professione perché la eredita tra virgolette ma il 46% invece perché è attratto dalle materie economiche e giuridiche questo è un risultato un dato importante che deve essere utilizzato nella valorizzazione della professione. Ancora come valuti il tuo percorso di studi rispetto alle tue esigenze professionali attuali? Qui emerge un dato molto interessante che è utile nella discussione sul tema della formazione universitaria e della sua adeguatezza di cui si parlerà anche dopo. È interessante vedere che la maggior parte giudica buono il percorso di studi parliamo di formazione iniziale qui non di formazione continua mentre il 40% però dice sì ma è carente di alcune hard skill cioè sostanzialmente la critica è rivolta proprio alle materie fondanti della professione una parte invece minoritaria si è soffermata sulle soft skill che sono un tema che sta acquisendo sempre maggiore importanza però qui ci sono delle indicazioni molto chiare solo il 18% considera inadeguato rispetto alle attuali esigenze della professione la formazione universitaria ancora qual è secondo te tra i seguenti l'elemento più critico nell'avvio dell'attività professionale qui la stragrande maggioranza non ha avuto dubbi nell'indicare i tempi lunghi iniziali per raggiungere un buon grado di autonomia reddituale è evidente questo lo percepiamo in maniera molto facile tutti ed è effettivamente uno dei problemi più grandi che hanno messo in evidenza i giovani mentre non è non è un problema o non sembra essere un problema da questi dati l'entrare in uno studio affermato ancora nel misurare le prospettive a 5 anni in termini proprio di specializzazione rispetto a quelle che sono le materie un po' più mature della professione la stragrande maggioranza ha indicato la crisi di impresa 65% seguita dalla finanza aziendale come le aree a maggiore crescita nel futuro mentre invece rispetto alle aree professionali più innovative e questo è un dato molto importante per tutto quello che riguarda il tema del futuro della professione quasi il 67% ha indicato la sostenibilità come l'area professionale che si svilupperà maggiormente nel prossimo futuro e seguita dalla consulenza strategica 61% e dalla consulenza direzionale 53% mentre invece non sembra per il momento essere come dire attraente la consulenza nei confronti della pubblica amministrazione piuttosto che i temi legati alle start-up innovative o al temporary management ancora altra domanda la formazione professionale oggi disponibile è adeguata a soddisfare le tue esigenze di specializzazione professionale quindi questa volta la domanda è sulla formazione professionale continua qui il 66% ha espresso un giudizio molto netto di positività di adeguatezza mentre c'è un 34% che invece parla di una formazione poco adeguata anche questo è un tema di cui si parlerà dopo ancora secondo te quanto è importante l'aggregazione professionale per il futuro della professione qui noi abbiamo messo tra virgolette in competizione due concetti quello di economia di scala e quello di economia di specializzazione il campione si è un po' spacchettato in tre gruppi ma il gruppo principale ha indicato in maniera molto chiara le economie di specializzazione come la motivazione principale dell'aggregazione professionale se comunque le sommiamo tutte e due vediamo che quasi il 70% ha indicato molto chiaramente l'aggregazione come la principale strada da perseguire e in subordine un 26% indica il network professionale come alternativa all'aggregazione ancora quale sarà secondo te l'impatto della tecnologia in particolare quello che prima è stato più volte richiamato e cioè la digitalizzazione e l'intelligenza artificiale sul futuro della professione qui sono state indicate entrambe le opzioni che noi abbiamo segnato e cioè se la tecnologia è più un fattore che viene impiegato nello studio per aumentare l'efficienza e quindi ridurre i costi o piuttosto se la tecnologia è un fattore che serve anche a ampliare il raggio d'azione dell'attività dello studio l'offerta di servizi di consulenza eccetera sono entrambi i concetti ben presenti al campione che abbiamo intervistato con una piccola differenza rispetto al concetto di efficienza rispetto a quello di efficacia ancora le ultimissime domande oltre alle tecnologie più basilari e necessarie all'attività professionale il tuo studio ha introdotto qualcuna delle seguenti tecnologie quindi andiamo a vedere a che punto siamo con l'innovazione tecnologica negli studi qui sono anche questi dati sorprendenti perché da altre parti da altre zone di ricerca su questo tema emergevano dei dati diversi cioè di una categoria poco aperta alle innovazioni invece noi abbiamo visto qua che c'è una grande attenzione verso per esempio l'automazione dei processi cioè i software RPA che sono ormai già in una fase avanzata di introduzione negli studi professionali seguiti dall'intelligenza artificiale dalla business intelligence mentre invece la blockchain è ancora poco significativa nella professione così come il CRM è ancora poco utilizzato infine nel caso appunto di risposta affermativa che abbiamo visto prima che impatto ha avuto stavendo le nuove tecnologie sull'attività dello studio e cioè appunto se prevalesse più un atteggiamento di difesa cioè la tecnologia fosse uno strumento per aumentare la competitività dello studio e difendersi dall'evoluzione del mercato o piuttosto se fosse invece un fattore di investimento per riposizionare lo studio anche su altre aree eccetera qui anche qui il campione si è segmentato e prevale diciamo l'elemento di competitività ma di poco 37% rispetto agli altri questo per dire che il campione ha mostrato un interesse molto forte rispetto alla necessità di riposizionare la professione su un mercato in grande evoluzione i giovani lanciano dei messaggi molto chiari cioè di essere sul pezzo diciamo posso usare questa espressione ma allo stesso tempo lanciano dei messaggi critici e di necessaria intervento su alcuni ambiti molto importanti io mi fermo qui vi ringrazio per l'attenzione vi lascio i dati per ogni analisi ed ogni commento grazie 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 a Tommaso Tommaso Di Nardo per aver illustrato in maniera lucida e puntuale i dati e i risultati di questa survey può rimanere anche qui con noi e seguire un po' queste puntualizzazioni che adesso faremo con il presidente il presidente Denuccio allora presidente quando ci siamo sentiti e commentavamo un po' insieme questi risultati io l'ho sentito molto soddisfatto dei risultati che sono emersi dai dati e anche profondamente colpito lei mi diceva che sono rimasto molto colpito perché? noi due anni fa era ottobre del 2022 lo ricordo ancora come se fosse ieri eravamo nella splendida città di Bologna anzi saluto la presidente Enrica Piacquadio spero sia arrivata sia qui in sala e lanciavamo una sfida lanciavamo una sfida su un tema quello della sostenibilità che è stato poco anzi ripreso anzi chiedo gentilmente alla regia di mettere le slide che mi riguardano lanciavamo una sfida all'epoca connotata da un forte scetticismo perché chiaramente parliamo di un di un tema che due anni fa era visto come lontano dall'attività quotidiana di noi professionisti e lanciavamo anche una sfida devo dire con un impegno noi come consiglio nazionale abbiamo sempre cercato di porci degli obiettivi sfidanti lo abbiamo detto in apertura ma l'abbiamo fatto anche con la consapevolezza di identificare il percorso per dare concretezza a queste sfide perché non c'è peggiore azione politica di quella che si basa sugli slogan e poi da questi slogan non ne viene fuori invece qualcosa di concreto e ricordo che in quell'occasione ebbe in modo di dire che l'impegno del consiglio nazionale sarebbe stato quello di trasformare di trasformare queste novità in concrete opportunità di lavoro per i colleghi quando l'amico e collega Tommaso Di Nardo mi ha come dire rappresentato i numeri di questa indagine di questo survey la cosa all'occhio mi è balzato subito rispetto a quella percentuale il 67% infatti il 67% dei giovani commercialisti considera la sostenibilità come l'area a maggior sviluppo futuro mi è balzato all'attenzione perché mi sono ricordato di quello che noi avevamo detto ripeto due anni fa ottobre 2022 ma mi sono ricordato anche del lavoro che abbiamo portato avanti all'interno del consiglio nazionale oggi noi abbiamo un impianto normativo che di fatto riconosce un'esclusiva a noi commercialisti nel nostro ruolo di revisori legali come advisor nell'ambito della cosiddetta certificazione della rendicontazione di sostenibilità e riconosce anche un ruolo di centralità quindi una prerogativa a noi commercialisti come diciamo non solo come attestatori ma anche come consulenti di quelli che sono gli imprenditori e questo lo abbiamo fatto attraverso un percorso normativo ben chiaro in questa slide sono riportati tre passaggi fondamentali il recepimento da parte del nostro governo della SESA Rardì che è avvenuto col decreto legislativo 125 del 2024 poi il riconoscimento il ricepimento di quelli che sono i standard di sostenibilità ed l'aspetto legato anche agli standard legati alla due diligence della direttiva sulla due diligence sempre di sostenibilità in tutti questi tre passaggi i commercialisti italiani sono professionisti che in via esclusiva potranno svolgere questa attività ritorno all'affermazione iniziale opportunità che si trasformano in concrete chance di lavoro per i nostri colleghi ora questo ovviamente è un lavoro che è stato svolto non solo con un'interlocuzione costante col governo ma è stato svolto anche con una presenza costante all'interno di tutti quelli che sono i tavoli tecnici a livello europeo faccio riferimento ad Accantancy Europe faccio riferimento ovviamente all'FRS Foundation faccio riferimento anche ai tavoli mondiali come IFAC o i professional oriented standard setter come OIB e GBS o anche l'OIC cioè in altre parole abbiamo presidiato dall'origine tutto il percorso di formazione per evitare e lo ricordo a tutti la direttiva comunitaria proprio la prima la direttiva 2464 stabiliva che ciascun Stato membro poteva delegare l'attività di certificazione della rendicontazione di sostenibilità non solo agli accountants che siamo noi ma a qualsiasi soggetto certificatore quindi avremmo avuto anche la possibilità in Italia che altri soggetti potevano entrare nel mercato della certificazione di sostenibilità e consentitemi di dirlo grazie al lavoro che abbiamo fatto incessantemente in questo devo anche ringraziare i miei consiglieri delegati d'aria sulla revisione perché sono stati presenti costantemente sul tavolo del MEF abbiamo arginato perimetrato controllato e alla fine ottenuto l'esclusiva sulla certificazione di sostenibilità quindi insomma questa scommessa proprio sul tema della sostenibilità è una scommessa che ha portato proprio a un cambio quel cambio di paradigma quel cambiamento culturale proprio per riconoscere dei tratti distintivi della professione di commercialista e se andiamo avanti ecco esatto altro dato che colpisce è che comunque i giovani commercialisti hanno le idee chiare sul futuro della professione perché supera il 60% la quota del campione che afferma che la professione non è in crisi siamo più vivi che mai certo questa affermazione è un po' forte evocativa siamo più vivi che mai è un po' uno stimolo uno sprono a chi dicevo prima in apertura dei lavori si flagella non ci sono i giovani nessuno vuole fare il nostro lavoro tra l'altro a breve avremo con il dottor Minella del Sole 24 Ore lanceremo questo progetto Giovani Talenti il problema non è che nessuno vuole fare il nostro lavoro il problema a mio avviso è che bisogna sempre comunicare e soprattutto rendere visibile chi è e cosa fa un commercialista per anni ci siamo lamentati del fatto che il nostro lavoro potrebbe essere fatto da chiunque siamo stati un po' percepiti come dei prodotti sostituibili chiunque può fare il lavoro del commercialista chiunque può ottenere la contabilità chiunque può fare un dichiarativo fiscale chiunque può fare consulenza fiscale chiunque chiunque anche l'abusivo infatti il tema dell'abusivismo lo riprenderemo fra un istante il Consiglio Nazionale ha seguito una strategia innanzitutto si è posto in un'ottica di lasciatemi dire nell'interesse del paese non solo nell'interesse dei colleghi di porsi in un'ottica di dialogo con il governo e con le istituzioni di questo paese cercando di far capire loro che molti fenomeni come quelli dell'evasione fiscale come quelli dell'antiriciclaggio anzi ringrazio saluto il generale Nicola Altiero che è qui presente in rappresentanza della Guardia di Finanza perché proprio ieri abbiamo sottoscritto il protocollo con il corpo della Guardia di Finanza con il generale comandante De Gennaro veramente ringrazio a nome dei commercialisti italiani della Guardia di Finanza per la sensibilità e l'attenzione rivolta ai commercialisti italiani e questo tra l'altro è un protocollo il primo protocollo nella storia della Guardia di Finanza e anche dei commercialisti che viene esiglato questo giusto per dire si scherzava ieri sulla lettura di parti contrapposte io ho spiegato l'ho detto veramente con sincerità tra l'altro il generale Altiero mi conosce io non ho mai visto gli uomini in divisa come un qualcosa di contrapposto rispetto al cittadino rispetto al professionista tutt'altro il problema è applicare le norme nella stessa maniera interpretare le norme nella stessa maniera perché il problema più alto in questo Paese deriva dalla difficoltà di comprensione delle norme soprattutto in ambito fiscale e dal fatto che poi l'interpretazione autentica avviene a distanza di anni attraverso una prassi applicativa che spesso e volentieri crea una divergenza tra la comprensione di quella norma nel momento in cui è stata applicata rispetto al momento in cui poi arriva la Guardia di Finanza o l'Agenzia delle Entrate e fa un'attività di controllo ex post partendo da questo assunto tecnico noi siamo partiti proprio su un cambiamento culturale che fa parte della riforma fiscale di questo Paese fortemente voluta dal Vice Ministro Leo che tra l'altro ringrazio anche se in questo momento storico stiamo vivendo un momento di difficoltà e con una cronaca di questi giorni la difficoltà applicativa del concordato preventivo biennale dicevo abbiamo voluto con il Governo strutturare un cambio di paradigma in ambito fiscale e anche qui ancora una volta e per la prima volta i commercialisti hanno visto riconosciuto un ruolo inesclusiva siamo a due esclusive certificazione della sostenibilità esclusiva nella certificazione dei rischi fiscali insieme agli amici avvocati ovviamente gli avvocati è inutile dircelo abbiamo parlato più volte anche con l'amico e collega Presidente Francesco Greco del Consiglio Nazionale Forense il loro ruolo differente rispetto al nostro di integrazione loro hanno più un ruolo di attività giuridico sulla governance delle società noi interveniamo invece proprio sulla mappatura dei rischi fiscali in un principio che prevenire è meglio che trovarsi poi in un'azione di contenzioso in un miglioramento del rapporto tra cittadino contribuente e amministrazione finanziaria e soprattutto per agevolare l'attività di controllo dei corpi di polizia in particolar modo della guardia di finanza che potrà concentrare la sua attenzione proprio su quei soggetti che non sono dicono gli inglesi eligible che significa degni di essere accolti all'interno di una certificazione fiscale un evasore fiscale un abusivo non potrà mai essere oggetto di una certificazione fiscale e l'interverrà il buon generale Nicola Altero con i suoi uomini per poter fare quello che deve essere fatto all'interesse della collettività cioè reprimere questo tipo di reati quindi insomma due risultati importanti concreti e che danno chiaramente un nuovo vigore anche nuova forza a tutta la categoria però c'è un altro passaggio storico lo possiamo definire importante la modifica dell'articolo 2407 del codice civile in materia di responsabilità appunto civile dei sindici che è stato approvato all'unanimità quindi insomma anche questo un altro obiettivo raggiunto questo guardi non mi vergogno a dirlo era la Camera dei Deputati tra l'altro era con me il mio addetto stampa Mauro Parraccino quando ho visto il pannello della Camera dei Deputati con il voto all'unanimità di approvazione della proposta di legge a C1276 scusatemi a prima firmatare l'onorevole Marta Schifone proprio sulla perimetrazione della responsabilità di noi commercialisti sono scoppiato in un pianto perché sono scoppiato in un pianto perché questo è un obiettivo che il nostro Consiglio nazionale sta portando avanti da oltre 20 anni anzi forse prima dell'unificazione tra dottori e ragionieri perché è un atto come ho sempre detto alle forze politiche di maggioranza e opposizione un atto di rispetto di dignità nei confronti di una categoria professionale come quella dei commercialisti che svolge quotidianamente il proprio lavoro non solo nell'interesse dei propri clienti ma nella funzione di controllo dell'interesse del Paese a maggior ragione in questo momento storico in cui diventa ancora più importante il presidio di legalità che noi commercialisti esercitiamo all'interno delle aziende devo dire che questo il lavoro è stato enorme perché potete immaginare quanta interlocuzione è stata spesa proprio in un rapporto one to one uomo a uomo con tutte le forze politiche qui non è solo un risultato di maggioranza perché ottenere ottenere una norma approvata all'unanimità del Parlamento o meglio della Camera dei Deputati perché siamo in attesa del passaggio al Senato e rispondo ai colleghi che stamattina mi fermavano nei corridoi del palazzetto chiedendomi il bano ma quando arriviamo all'approvazione siamo in dirittura d'arrivo incrociamo le dita ovviamente la calendarizzazione dei tempi non dipende solamente da noi ma dai lavori delle singole Camere nello specifico del Senato siamo in Commissione Giustizia quindi spero mi auguro fortemente che entro fine di questo anno possa avverarsi questo sogno ma anche questo non è un risultato nell'interesse solo e prevalentemente dei commercialisti italiani ma è un risultato nell'interesse del Paese perché un organo di controllo fatto di professionisti di qualità che abbracciano questa attività non con la preoccupazione di essere poi l'indomani mattina oggetto di un'azione di responsabilità abbandonando poi questo lavoro ripeto il termine abbandonandolo solamente a persone che non hanno nulla da perdere a colleghi che non hanno nulla da perdere o piuttosto a giovani colleghi che pur di iniziare il lavoro sono disposti a prendere compensi veramente irrisori per coprire ruoli molto delicati significa far venire meno la valenza e la significatività di un'attività di controllo invece questo è un lavoro che deve essere fatto in maniera serena e tranquilla con la corretta proporzionalità tra responsabilità e attività da tutti i colleghi adeguatamente preparati quali noi siamo e nell'interesse continuo a dirlo ancora una volta del paese e dello stato italiano allora torniamo torniamo a un altro dato della Sarvi quello che riguarda un po' la complessità normativa perché per il 45% dei giovani commercialisti la complessità normativa come la criticità è principale per il futuro della professione Presidente insomma che è un dato che fa riflettere allora mi verrebbe da fare una battuta su questo passaggio nel nostro è un consiglio strabico strabico perché perché da un lato come abbiamo visto poc'anzi la nostra attenzione è rivolta rispetto a quelli che sono nuove frontiere della professione dall'altro più volte ci siamo detti soprattutto in ambito fiscale che poi rappresenta l'interesse della maggioranza dei nostri iscritti più dell'80% ci siamo detti che dobbiamo guardare al quotidiano alla scrivania dei colleghi ora lungi da me nell'affermare in maniera scorretta che tutto va bene tutt'altro anzi siamo in piena come dicevo prima confronto col governo per cercare di trovare una soluzione alle scadenze del concordato preventivo biennale anche in questo caso ripeto ancora una volta non c'è una contrapposizione c'è semplicemente una valutazione tecnica la valutazione tecnica è trattata dal fatto che lo strumento del concordato preventivo biennale per come è stato formulato nella sua ultima istanza è arrivato a noi commercialisti pochi giorni fa la circolare l'ultima circolare il 17 settembre ancora la scorsa settimana si attendeva l'applicativo Sogei che è stato rilasciato proprio ieri allora io mi pongo una domanda tecnica né politica né a favore né contro come fa una platea di commercialisti a lavorare in solo dieci giorni un potenziale di concordati preventivi che deve essere rivolto a una platea di oltre 5 milioni di partite IVA cioè non è possibile non è possibile tecnicamente impossibile non è ripeto non si tratta di una proroga perché vogliamo avere più tempo perché dobbiamo passeggiare magari sabato o la domenica ormai i colleghi lo sanno perfettamente non abbiamo neanche più la capacità di poterci dedicare liberamente ai nostri hobby personali è un problema squisitamente tecnico che parte da un assunto se è vero come è vero che stiamo lavorando tutti insieme noi da una parte gli organi di polizia dall'altra l'agenzia dell'entrata dall'altra ancora il governo dall'altra ancora il Parlamento dall'altra ancora per migliorare il sistema economico nazionale di questo paese e lo facciamo per migliorare anche la qualità dei cittadini di questo paese dovete mettere nelle condizioni i professionisti che hanno collaborato alla scrittura della norma di poterla applicare altrettanto efficacemente altrimenti abbiamo disperso energie inutilmente quindi il mio ripeto diventa un accorato appello ancora oggi molti colleghi mi chiedevano ma ci sarà questa proroga io ancora insisto in una interlocuzione e lo posso dire pubblicamente ancora aperta con il governo a vedere di trovare una soluzione ma ripeto non nell'interesse dei colleghi ma nell'interesse della riuscita dello strumento perché una volta che questo strumento troverà applicazione allora lì si vedrà chi è degno o meno di essere considerato contribuente diciamo virtuoso per il nostro paese ritornando alla complessità normativa io in questa slide inutile che ve li leggo ci sono solo citati alcuni degli interventi che abbiamo portato con quello stradismo rivolto al quotidiano con quello stradismo rivolto all'esigenza del collega dal raddoppio dei termini di definizione della visibonari che abbiamo portato da 30 a 60 giorni alla delega unica anche questo uno strumento che facilita il commercialista e l'interlocuzione all'esemplificazione del quadro RU all'introduzione del termine iniziale per la presentazione non me li fate leggere tutti perché ce ne sono una marea dall'eliminazione all'obbligo di conservazione sostitutiva digitale dei registri contabili mi ricordo eravamo stati appena eletti e la prima richiesta che avanzammo al governo fu quella di dire ma per quale motivo dobbiamo stampare ogni volta questi registri se la stampa la possiamo fare su richiesta degli organi accertatori ogni qual volta si presentano nei nostri uffici nei nostri studi insomma abbiamo anche la moratoria delle scadenze fiscali di agosto e dicembre abbiamo in altre parole una sensibilità e questo vorrei che sia chiaro a tutti i colleghi presenti in questo auditorium una sensibilità di visione non solo rivolta a quello che potrà essere o quello che sarà il nostro lavoro ma a quello che è il nostro presente cercando di come dire limitare al massimo nella nostra interlocuzione quei disagi e molte volte ci vuole ben poco per migliorare l'interazione e lenire i disagi che ciascuno di noi affronta quotidianamente altro tassello importante del lavoro che è stato svolto che ha appunto come obiettivo questo processo di consolidamento della professione è il tema appunto sulla crisi d'impresa il 65% dei giovani commercialisti tra le aree più tradizionali indica la crisi d'impresa come l'area professionale a maggior sviluppo futuro questo è un tema su cui diciamo ci siamo spesi tantissimo non che sugli altri non l'abbiamo fatto ma questo in particolar modo perché non siamo partiti da un foglio bianco ma siamo partiti da una legge che è il codice della crisi d'impresa noi quando abbiamo letto il testo di legge della crisi d'impresa io devo dire sono rimasto alquanto spiazzato rispetto a due aspetti fondamentali da un lato si evocava e si evoca tuttora la centralità dei commercialisti in una crisi d'impresa che ha una prevalenza degli aspetti economico-aziendali rispetto a quelli prettamente giuridici vengono introdotti i concetti come la continuità aziendale come l'approccio predittivo dall'altro lato ho visto invece una lasciatemi dire diminuzio del valore di noi commercialisti sia in termini formativi sia in termini anche di ruolo all'interno del codice della crisi primo fra tutti la costituzione di un albo dei gestori della crisi io quando sento la parola albo scusatemi colleghi la riconduco unicamente ad una sola parola ordine nazionale sia esso dei commercialisti sia esso degli avvocati sia esso di qualsiasi alta libera professione allora non è solo un tema di wording come dicono gli inglesi di locuzione verbale è un tema sostanziale quando io dico io perché ho fatto parte dell'osservatorio permanente presso il ministero della giustizia ho iniziato a dialogare insieme col supporto del consiglio nazionale ovviamente dello staff che ringrazio pubblicamente perché dietro il lavoro del consiglio nazionale c'è il lavoro di tanti ricercatori della fondazione che in maniera eccellente e non lo dico per piageria lo sanno tutti che sono molto arido di giudizi eccellente supportano l'azione politica del consiglio nazionale quando noi abbiamo lavorato ho detto loro dobbiamo raggiungere tre obiettivi primo non voglio sentire parlare di albo quindi la parola albo deve sparire dal codice della crisi bisogna parlare di elenco e questo elenco deve essere gestito dal consiglio nazionale o meglio dai consigli dei professionisti che sono interessati quindi commercialisti avvocati e consulenti del lavoro seconda cosa la formazione noi non abbiamo tempo da destinare per fare una formazione ridondante e ci dobbiamo formare come gestori della crisi e poi come esperti negoziatori e poi come delegati alle vendite e poi come insomma una formazione che si ripete anche molte volte replicata dobbiamo introdurre un principio di equipollenza poi abbiamo detto loro dobbiamo anche trovare una soluzione che riduca il numero di ore di formazione per il mantenimento dell'iscrizione non possiamo stare 40 ore a riformarci e soprattutto è inaccettabile l'ho detto a chiare lettere inaccettabile che un iscritto a un ordine professionale che ha superato un esame di stato che è soggetto ad un'attività di formazione obbligatoria per poter svolgere un'attività come quella del gestore della crisi deve fare un tirocinio di sei mesi e che facciamo ritorniamo indietro è come a dire è come a dire lo dico in maniera un attimino più chiara che un medico che passa da un ospedale all'altro per poter fare un nuovo lavoro deve mettersi a fare nuovamente tirocinio perché probabilmente il braccio non sta più a destra ma è passato dietro le spalle allora questi concetti che io sto evocando anche in maniera un po' teatrale ma vi posso garantire che sono stati sottoscritti evocati in maniera forte insieme a un ultimo passaggio che adesso richiamerò secondo me ancora più importante di quello che vi sto dicendo sono stati da me espressi con chiarezza e alla fine abbiamo ottenuto concretamente la modifica dell'articolo 356 che riconosce l'equipollenza della formazione in ambito di crisi di impresa abbiamo ottenuto la riduzione delle ore da 40 a 18 ore abbiamo ottenuto l'eliminazione del tirocinio semestrale abbiamo ottenuto l'eliminazione della parola albo trasformandolo in elenco abbiamo ottenuto che la formazione venga gestita dagli ordini professionali sotto la vigilanza del ministero e non da ultimo per importanza abbiamo ottenuto secondo me la cosa più importante abbiamo ottenuto come dire l'anteprima del 2407 è l'articolo 25 octies del coge della crisi di impresa un tema su cui io personalmente mi sono battuto in prima persona perché l'articolo 25 octies cari colleghi introduce un principio assoluto fa un cambio di paradigma tra conoscibilità e conoscenza argina in un periodo temporale quando una segnalazione si considera tempestiva quando si considera tempestiva una segnalazione da parte di un componente dell'organo di controllo entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza del fatto non dalla presunta conoscibilità da parte del collega è cambiato il mondo perché ovviamente non può essere più applicato il principio in ambito di segnalazioni il professor Denuccio in qualità di presidente del collegio sindacale della società X non poteva non sapere non esiste un principio che si è colpevoli fino a prova contraria fino a prova contraria bisogna dimostrare la colpevolezza di qualcuno e allora è giusto che ci fosse un termine temporale di 60 giorni perché altrimenti si creava un'applicazione di una norma in maniera disomogenea a livello nazionale perché per qualcuno essere tempestivo può essere dopo una settimana per qualcun altro dopo un mese per qualcun altro dopo due mesi quindi abbiamo introdotto questo argine alla nostra perimetrazione alla nostra responsabilità e poi da ultimo non dimentichiamoci in una consapevolezza di vita vissuta molte delle situazioni di indebitamento delle società in crisi come noi tutti sappiamo derivano da debiti nei confronti dell'erario i debiti cosiddetti tributari i debiti previdenziali i debiti verso quelli che il legislatore chiama i creditori qualificati abbiamo finalmente introdotto l'accordo transattivo tanto evocato addirittura nella legge delega fiscale quella del 2023 è finalmente applicato nel correttivo della crisi dando la possibilità alle aziende di poter definire a saldo e stralcio la propria posizione nei confronti dei creditori qualificati garantendo la continuità del soggetto aziendale e allora Presidente torniamo all'altro tema centrale di questa giornata che richiama anche il titolo di questa giornata di apertura è quello dei giovani il tema dei giovani perché prima si diceva scarsa attrattività il calo dei praticanti c'è comunque un cambiamento molto importante epocale che proprio va a impattare sulle libere professioni però guardando sempre ricordando questi dati solo il 21% dei giovani commercialisti aveva uno studio professionale in famiglia il 46% ha scelto la professione attratto dalle materie giuridiche ed economiche quindi ritorna proprio il concetto della resilienza di questa professione ecco che tipo però di lavoro proprio concreto voi state facendo per rendere più attraente questa professione per i più giovani quindi la modificano del 139 arriviamo al 139 il decreto legislativo 139 l'ho detto prima è una norma di legge che risale a quasi vent'anni fa 2005 per la precisione ed è una norma che è assolutamente lo dico con categorica chiarezza desueta rispetto all'attuale contesto in cui noi operiamo lo è per varie ragioni le modifiche che noi abbiamo proposto nel 139 impattano in particolar modo sulla necessaria attrattività della nostra professione attraverso una maggiore e consolidato rapporto con le nuove generazioni siamo intervenuti su quattro punti in particolare sul tirocinio professionale dando la possibilità ai giovani laureati di poter maturare i 18 mesi di tirocinio già nella fase integralmente nella fase di corso di studi in modo tale che si evita quella dissaturazione temporale che si verifica dal momento della laurea sia essa triennale oppure magistrale la laurea integrale e per poi entrare nel mondo del lavoro abbiamo previsto per la prima volta un compenso o meglio un'indennità per i giovani laureati anche questo è un aspetto fondamentale oggi noi viviamo in un contesto competitivo in cui giustamente chi esce dall'università vuole iniziare a lavorare ha la voglia di guadagnare qualcosa un mercato in cui c'è una sorta di cannibalizzazione anche dei laureati io lo vedo perché molti dei miei ragazzi i miei studenti poi entrano all'interno delle società di revisione piuttosto che nelle banche d'affari attratti anche da un guadagno importante che poi di fatto non è così perché poi alla fine spesso e volentieri vengono tra virgolette ad essere impegnati professionalmente per svariati numero di ore di lavoro al giorno lavorando su fogli di Excel lavorando in maniera anche diciamo non particolarmente intensa sul piano progettuale ma non di impegno lavorativo seconda cosa importante esame di Stato abbiamo reso compatibili sovrapponibili l'esame di Stato per l'abilitazione alla libera professione con quello da revisore legale per in modo tale che i nostri giovani laureati quando si abilitino si abilitino contemporaneamente sia per l'esercizio della professione di dottore commercialista sia per l'esercizio della professione di revisione legale abbiamo anche previsto per la prima volta questi sono fatti non parole molti parlano di giovani ragazzi voi siete già iscritti quindi voglio dire siete già i giovani maturi ma molti parlano spesso del concetto è dobbiamo dare spazio ai giovani largo ai giovani diamo possibilità ai giovani bene il Consiglio nazionale che ha fatto senza perdersi in troppe lucubrazioni verbali ha semplicemente scritto una norma nella quale verrà riconosciuto una quota intergenerazionale a tutti quanti i giovani colleghi è giusto che all'interno dei consigli degli ordini territoriali del Consiglio nazionale entrino i giovani perché l'esigenza di un giovane è diversa dall'esigenza di una persona più anziana mi definisco anziano beh è anacronistico questo è vero ragazzi mi sento giovane dentro ve l'ho già detto stamattina quindi l'anzianità è un dato anagrafico è giusto che ci siano perché la visione che ho io di un problema non è la visione insormontabile di un giovane che magari entra in uno studio e ha difficoltà anche a poter acquisire un cliente a poter gestire quel cliente e poi in particolar modo l'aspetto più importante ma non ultimo per importanza l'oggetto della professione di cui parleremo fra un istante con riferimento proprio alle specializzazioni e allora andiamo sempre avanti a commentare gli altri appunto gli altri dati veniamo al tema delle specializzazioni perché quello che è emerso per il futuro sono proprio le specializzazioni i giovani in questo anno le idee molto chiare per il 39% dei giovani commercialisti le economie di specializzazione sono più importanti delle economie di scale vengono prima delle economie di rete la specializzazione molto telegraficamente e andare avanti io mi avviso il migliore strumento contro l'abusivismo in assoluto in assoluto non esiste strumento migliore che la specializzazione l'abusivo cosa può fare può fare un prodotto o meglio un servizio che è percepito come replicabile sostituibile un abusivo non potrà mai cimentarsi nella sostenibilità uno perché ormai abbiamo ottenuto un'esclusiva di legge due perché la sostenibilità è una materia altamente tecnica altamente specialistica non potrà più certificare un tax control framework quindi nella fiscalità un abusivo non potrà più lavorare perché chi rilascia il certificato sono solo i commercialisti non potrà svolgere attività di crisi di impresa uno perché ha a che fare ovviamente con gli organi giudiziari e quindi un abusivo non può lavorare con un organo giudiziario due perché ha bisogno di competenze tecniche non potrà essere in un collegio sindacale perché un abusivo che non è un revisore legale non può essere inserito in un collegio sindacale la vera risposta all'abusivismo è la specializzazione la specializzazione l'ho detto prima dal palco non deve essere letta dai colleghi io capisco lo scetticismo come una discriminazione ma come io ho fatto il fiscale fino ad oggi che farò domani anche la fiscalità di base è una specializzazione se viene correttamente codificata anche quello che il commercialista che opera come tanti di noi dico di noi perché anche io lo faccio ancora oggi insomma con tempi un po' diversi ma continuo cerco di farlo altrimenti perdo la consapevolezza dei problemi ieri ero davanti al computer ve lo dico a controllare il funzionamento dei numeri che ci sono stati dati da Sogepe e il concordato preventivo biennale verificandoli sulla mia posizione se erano corretti a me erano corretti qualcuno dice che sono arrivati dati non corretti i miei erano corretti lo dico a testimonianza dicevo oggi anche il lavoro di base chiamiamolo così le contabilità i dichiarativi devono essere una specializzazione attraverso il riconoscimento di quella specializzazione si fa fuori quell'attività di abusivismo nel 139 siamo andati oltre abbiamo cambiato la struttura dell'articolo 1 bis utilizzando una locuzione verbale che non è solo di forma ma è di sostanza nel vecchio 139 si parlava di ambiti di competenza specifica oggi noi pattiamo di attività riservate per legge o attività tipiche della professione abbiamo ripreso quello che la suprema corte costituzionale è ancora la suprema corte di cassazione recente sentenza corte costituzionale la ricordo in una vicenda che ha visto il consiglio nazionale che si è costituito per una vicenda che riguardava un collega un collega diciamo un iscritto ad un'associazione di tributaristi dove ha chiarito che ci sono attività tipiche della professione questo significa che se tu vuoi fare quel lavoro devi avere le stesse caratteristiche che hanno i commercialisti formazione assicurazione ovviamente norme deontologiche devi aver superato un esame di stato devi aver fatto un tirocinio ci sono tutta una serie di caratteristiche che ti consentono di poter svolgere quell'attività se non ce l'hai mi dispiace per te non lo puoi fare e nello stesso modo è proprio attraverso questo percorso che si combatte l'abusivismo di cui proprio parlava ecco ritorniamo qua tema delle specializzazioni il 66% tra l'altro dei giovani commercialisti ha espresso anche un alto grado di apprezzamento per la formazione che cosa come vuole commentare questo dato il 66% non ritorno sul tema della specializzazione abbiamo già detto il 66% dei giovani che apprezza la formazione è la come dire risposta più bella che potevamo avere con la fondazione formazione ma anche il consiglio nazionale sta impegnando enormi energie la sostenibilità di due anni fa di ottobre 2022 è stato uno dei cavalli di battaglia della formazione posta in campo anche dagli ordini territoriali che ringrazio tutti i presidenti presenti e i singoli consiglieri perché tutti si sono spesi in un'attività di formazione specialistica e l'apprezzamento che viene dai nostri giovani colleghi è voglio dire emblematico il 66% è una grande maggioranza di colleghi tra l'altro un aspetto fondamentale lo vedremo fra un istante il connubio è la è la sinergia che abbiamo stretto con Sidrea con Aidea per poter sono le accademie di economia aziendale parlo dell'università per poter conferire ai nostri giovani competenze tecniche specialistiche la competenza tecnica specialistica è come il proiettile nella pistola di un militare è lo strumento per poter contrastare per poter difendere non per attaccare per difendere per difendere chi è più debole di te per difendere un sistema economico che è sempre più in difficoltà la specializzazione è questo la formazione serve per acquisire quei proiettili per essere forti per essere capaci di dare le risposte giuste al momento giusto e questo noi lo stiamo facendo lo stiamo facendo con pervicacia e con determinazione mi fa molto piacere leggere questo dato perché evidentemente i nostri giovani colleghi lo hanno inteso molto bene verso l'aggregazione professionale quindi insieme naturalmente alle specializzazioni quello delle aggregazioni è un altro tema chiave per il futuro della professione è solo il 26% pensa di poter evitare l'aggregazione utilizzare come alternativa il network professionale il 70% non ha dubbi sull'importanza di aggregarsi allora l'aggregazione a mio avviso è ormai un passaggio evolutivo come dire obbligato obbligato perché nel mondo nel nostro la nostra attività professionale è evidente è chiaro l'abbiamo detto da oggi pomeriggio più volte c'è un cambiamento del contesto competitivo quando noi parliamo di sostenibilità quando parliamo di tax control framework di cooperative compliance quando parliamo di insolvency crisi di impresa non a caso sto utilizzando termini anglosassoni parliamo di materie che non hanno confini non hanno confini perché gli standards che vengono applicati per esempio sulla sostenibilità sono tutti standards a livello europeo gli standards che vengono utilizzati nell'ambito del risk assessment sono tutti standards a livello europeo significa che si sta tendendo verso una unica grammatica contabile fiscale sostenibile a livello europeo questo che significa significa che il nostro mercato non è più un mercato professionale chiuso dove c'era come prima delle barriere all'entrata ed era quindi difficile che qualcuno potesse venire a fare concorrenza oggi abbiamo un mercato turbolento un mercato aggredito in senso tecnico non in senso fisico da una serie di player che vengono all'interno per acquisire lavoro ormai ci sono dei player non mi fate fare nomi e cognomi ma lo sapete perfettamente che offrono qualsiasi tipo di servizio da quello contabile fiscale sostenibilità 231 tutto offrono tutto allora per poter vincere noi non possiamo essere tuttologi dobbiamo avere anche la nostra identità per poter vincere queste sfide bisogna partire attraverso un'aggregazione di studi multidisciplinari in cui ciascuno fa bene ciò che deve fare ed è in grado di offrire una platea di servizi un insieme di servizi un bouquet di servizi il più ampio possibile all'imprenditore la nostra funzione guardate dopo il covid è cambiata radicalmente oggi l'imprenditore chiede a noi professionisti una serie di skill e di competenze per soddisfare dei bisogni che prima non aveva perché quando tutto andava bene addirittura il commercialista ricordo eravamo a Bari tanti anni fa io vengo ovviamente come voi sapete da Bari in un congresso nazionale 2012 forse e dissi pure a me viene difficile pagare qualcuno che mi fa pagare qualcosa perché il commercialista era visto come quello che dava l'F24 il 16 del mese per il pagamento dell'IVA giusto? quindi non soddisfo un bisogno anzi sono uno che voglio dire letto in questa chiave sono anche uno che dà fastidio dice ma non so dove pagare lo Stato oppure pagare il commercialista che mi fa pagare oggi invece il commercialista proprio perché l'imprenditore opera in un mercato particolarmente turbolento vittima anche di situazioni impreviste e imprevedibili è l'ancora di salvataggio lo è nella crisi di impresa quando l'imprenditore si trova in difficoltà lo è quando arriva guardo sempre il generale Altiero davanti a me quando arriva la guardia di finanza e fa attività di controllo per i reati 231 perché dice oh mio Dio e io adesso qua non c'ho lo dv e quindi bisogna intervenire giusto Rino Rino Sodano che saluto il nostro presidente dell'osservatorio ne ho costituito tra l'altro con magistrati magistrati di prim'ordine e rappresentanti delle istituzioni anche quello degli osservatori lo dico a beneficio di tutti è una scelta strategica del Consiglio Nazionale per avere un'interlocuzione al nostro interno con tutti gli attori protagonisti dei vari dei vari temi dalla 231 alla sostenibilità all'intelligenza artificiale agli enti locali questo modello noi lo stiamo adottando perché oggi i commercialisti continuano a dire devono soddisfare un bisogno e quindi anche la nostra figura deve essere letta come quella faccio un paragone del medico del medico delle aziende però non del medico delle persone fisiche di quello che interviene per salvare il paziente quando ora ha freddore o quando sta male questo è il nostro ruolo allora siamo arrivati a diciamo l'ultimo l'ultimo commento dei dati è quello che riguarda il cambiamento tecnologico e qui 46% dei giovani commercialisti ha dichiarato di aver introdotto o di prepararsi a introdurre l'intelligenza artificiale nello studio oltre il 50% software di automazione dei processi che questo è un dato che è un po' in controtendenza invece rispetto ai dati che arrivano dall'osservatorio del Politecnico di Milano secondo cui noi commercialisti un po' tutti i libri professionisti gli avvocati i consulenti del lavoro sono ancora poco propensi ad adottare le tecnologie negli studi qua il 46% è comunque una percentuale importante e buona quindi parliamo adesso di cambiamento tecnologico che è un altro tema dirompente per la professione due cose su questo tema la prima devo ringraziare pubblicamente non riesco a vederlo perché sarà dietro di lei il collega Fabrizio Escheri il consigliere delegato sull'area dell'innovazione perché lo devo ringraziare perché con Fabrizio abbiamo abbracciato una sfida importante la sfida che poi ci ha portato nel tavolo di governo quando è stato organizzato il G7 da noi tra l'altro in Puglia casualmente in Puglia in quell'occasione fummo chiamati non solo noi ovviamente come professioni ma tutte le professioni liberali a dare un contributo all'apertura proprio del G7 sul tema dell'intelligenza artificiale in quell'occasione il collega Escheri con ovviamente la nostra struttura di ricerca della fondazione aveva redatto un documento dell'impatto sull'impatto dell'intelligenza artificiale in ambito professionale che cosa è emerso da quel documento un aspetto che io ritengo essere essenziale ora io lo faccio un po' come dire lo rendo un po' più simpatico io ho sempre sostenuto che non può esserci nessun cervellone elettronico che è in grado di poter gestire il fisco italiano ci scommetto quello che volete voi perché la materia fiscale è così complicata e per effetto del fatto come dicevo prima che la materia fiscale nella sua interpretazione autentica si consolida con la prassi e la prassi non è mai qualcosa che tu sei prima ma la sai dopo quando viene applicata quindi non puoi prevenire la conoscenza della materia fiscale ma al di fuori di questa battuta quello che è emerso da quel documento è stato che oggi l'intelligenza artificiale è uno strumento integrativo dell'attività professionale che aiuta e velocizza l'attività professionale ma noi professionisti a tutti quanti noi giovani meno giovani meno meno giovani c'è solo un obbligo quello di imparare utilizzare correttamente lo strumento dell'intelligenza artificiale io per primo devo dire mi sono appassionato molto ad una chat GPT l'ho messo come dire un po' in uso non per l'attività professionale anche per l'attività comunicativa e devo dire che è uno strumento incredibile perché ti dà devi saperlo interpretare perché poi spesso e volentieri le informazioni non sono completamente corrette perché risponde su stimoli e su input che sono quelli nostri ma quello che colpisce è la velocità nel data collect cioè nel rielaborare le informazioni il nostro consiglio nazionale ha validato e ha licenziato proprio la scorsa settimana un documento su come utilizzare il titolo dell'aiuto intelligenza per il commercialista su come utilizzare l'intelligenza artificiale nell'ambito della nostra attività professionale sarà illustrato al collega Escheri nella prossima tavola rotonda e sono convinto che dalla lettura di questo documento si potranno aprire nuovi scenari per tutti quanti noi grazie è un passaggio imprescindibile per tutti per tutte le professioni grazie a tutti